come si risale va vissuto fino in fondo non c'è una ricetta chiaramente ma noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo grandi indicazioni da tutta la storia umana e da tutta la storia della psicologia da tutta la storia dello spirito ovvero la crisi va vissuta fino in fondo va anzitutto sentita va vissuta nel corpo quando disobbediamo quando quando digiuniamo quando ci facciamo e quando ci facciamo punire dunque unire dal potere noi stiamo vivendo nel corpo la crisi di quella civiltà e qualcuno la deve vivere noi siamo la domanda per tutti gli altri e nel momento in cui facciamo questo c'è l'inizio perché pensiamo ho detto che nella storia dello spirito tutta questa situazione è stata già rappresentata quando dante per dirne una deve arrampicarsi sul vello putrido sporco di lucifero per uscire dall'inferno e deve arrampicarsi su quella suzzura per arrivare al purgatorio per arrivare a rivedere le stelle ecco che lì è detto chiaramente va così come quando l'uomo l'anima cade pensiamo a platone pensiamo cade nel corpo per la necessità di ritornare alla coscienza nel momento in cui accade questo l'uomo sta già percorrendo la sua strada noi dobbiamo viverla fino in fondo questa crisi viverla fino in fondo significa incarnarla incarnare la disobbedienza incarnare la resistenza incarnare l'opposizione in tutti in tutti i suoi in tutti i suoi luoghi nella politica nei tribunali nelle case nei letti nei baci ci abbracciamo per strada e questa è disobbedienza ci vediamo e questa è disobbedienza ci incontriamo nelle manifestazioni ok si dice le manifestazioni non servono più non è vero lì ci abbracciamo e questa è resistenza e questa è disobbedire alla società della separazione perché la società della separazione si fonda anzitutto sul portare tutte le relazioni umane nella dimensione della virtualità e dunque renderle non relazioni perché le relazioni sono umane in quanto sono incarnate sono incarnazione di un'anima allora occorre disobbedire ovunque per dirla con churchill occorre disobbedire in te per terra per cielo e per mare e per terra per cielo e per mare occorre combattere la militarizzazione della società perché lascia passare non ce lo dimentichiamo uno strumento militare di controllo militare della società e questa militarizzazione sfocia inevitabilmente nelle guerre una società militarizzata una società che poi produce guerre ne sappiamo qualcosa sì ne sappiamo qualcosa occorre disobbedire a qualunque cosa anche io quando mi metto all'entrata di scuola con i miei cartelli diciamo e dico gli studenti sono disobbedite disobbedite a tutto anche a questo anche a questo